La nuova Espace offre due motori diesel di ultima generazione, dal modello 1.6 DCI, una versione base con un singolo turbo da 96 kW e una versione twin turbo da 118 kW. Questi modelli sono dotati della migliore tecnologia disponibile per il risparmio del consumo di carburante preservando al contempo il piacere della guida. Grazie per la visione!